Buonasera, siamo qui con il presidente capitano del Perugia Crosa, grandissima vittoria, la seconda consigliotiva per il Perugia. Che match hai visto, caro Andrea? Partita sofferta, siamo stati fortunati a portare a casa questi tre punti, ci fanno agganciare Ternana in cima e vederla da sola lassù, facendo un po' di bolle, quindi il nostro l'abbiamo fatto e speriamo la prossima. Meno male il Bombersalvi che ci ha tolto diversi castagnati. Abbiamo visto un grande Tortolini Walter in Porta, formato super. È stato grandissimo, è stato, oggi ha dettagliato due o tre gol dentro praticamente, grazie un po' a tutti, sono stati tutti bravi. Forse io sono stato al peggio, il sottoscritto è stato al peggio stasera, il Crosso fan. Caro Crosa, un messaggio per i cugini nemici della Ternana? Che non so ancora chi compone la Ternana sicuramente sarà... De Fabro. Ah, De Fabro, ma come fanno a essere la Ternana? Eh... Però insomma ecco, il nostro campionato sarà su di loro, cioè il nostro campionato sarà arrivato davanti alla Ternana, quindi... Ora, la sfida è aperta e lunga, speriamo che ci riuscimo. Ringraziamo Crosa per l'intervista, ciao e grazie.